Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere un tema child per Divi chiamato Atelier. Nei video precedenti, che trovi in parte suggeriti qua sopra e gli altri all'interno del mio canale, siamo andati alla scoperta del uno tra i più popolari temi per WordPress, appunto Divi. Siamo andati a visitare il sito, a vedere quali sono le sue funzionalità, quindi tutte quante le future. Siamo andati a provare live una demo e a visualizzare, quindi a capire come funziona l'editor a blocchi di Divi. Ci siamo poi soffermati su quelli che sono i layout messi a disposizione dalla vasta libreria di layout presente su Divi che ci consentono di importare una singola pagina oppure addirittura interi template di pagina, con interi pacchetti di template, di layout, in modo da avere quasi un tema, diciamo, completo. Successivamente poi abbiamo fatto un altro passo su quelli che sono i temi child del marketplace, cioè temi child sviluppati da autori di terze parti, quindi sviluppatori o aziende di terze parti, che hanno creato il loro tema child su base naturalmente di Divi. Andiamo quindi oggi a vedere questo tema appunto chiamato atelier, che ha un tema child di Divi. Direttamente dal sito ufficiale del tema Divi, troverai comunque il link qua sotto in descrizione, accediamo a quello che è il marketplace e andiamo a vedere i temi child. Andiamo a vedere appunto oggi questo tema di cui abbiamo anticipato, che si chiama atelier, che ha un costo di 165 dollari, si può utilizzare per infinite licenze, quindi di fatto non abbiamo un numero limitato di siti per cui lo possiamo usare. Abbiamo compreso nel prezzo un anno di supporto e aggiornamenti. Andremo tra poco a vedere la demo, abbiamo un po' di informazioni relative a questo tema child. Abbiamo un tema che può andare bene per fotografi, per chi si occupa di fotografia, videomaker e quant'altro, per altre possibilità e si presta parecchio appunto per questa tipologia comunque di utenza di clienti o di freelance, come li vogliamo chiamare di fatto. Abbiamo a disposizione 16 layout differenti, abbiamo tre tipologie di gallerie da poter utilizzare, abbiamo slider, la forma mosaico e quella full screen. Abbiamo due tipologie diverse di pagina dei blog, abbiamo la possibilità di integrarci con e-commerce, quindi di creare anche un e-commerce, uno store online con questo tema. Abbiamo ovviamente come in quasi tutti i temi child che stiamo visualizzando, abbiamo il one click demo import per installare quella che è la demo che stiamo vedendo e di fatto andare a modificare soltanto quelli che sono i contenuti e avere un sito pronto. Abbiamo anche un supporto esaustivo che ci aiuta step by step nella creazione e nello sviluppo di questo tema. Direi di non perdere altro tempo, andiamo a vedere quindi quella che è la demo. Abbiamo il nostro logo, il nostro brand è comunque centrale, il menu quindi suddiviso in due parti, una parte di sinistra e una parte di destra, successivamente abbiamo uno slider in apertura che appunto ci dà la possibilità e l'opportunità di mettere in mostra già quelle che sono delle immagini, delle foto, quindi dei nostri prodotti magari. Successivamente abbiamo una sezione dove possiamo, abbiamo già un link di fatto, quindi un bottone con un'immagine però non soltanto un bottone semplice, abbiamo del testo, abbiamo una sezione suddivisa in tre colonne dove anche qui possiamo inserire immagine e bottone con link, con link che possono essere link a pagine o link ai servizi o link alla pagina di contatto, decidiamo poi naturalmente noi come usufruire di questi bottoni. Abbiamo poi un'altra sezione relativa a quelli che possono essere i nostri lavori, quindi abbiamo i nostri lavori, poi qui nella demo abbiamo quelli che sono appunto le tre presentazioni delle gallery che abbiamo visto prima, abbiamo l'ultima notizia dal blog, diciamo, un'altra sezione con uno slider, quindi con immagini e però del testo da poter inserire sopra, e arriviamo poi a quello che è il footer. Facciamo un attimo una, andiamo a vedere, questa qua è quella che è l'home page, andiamo a vedere subito le tre gallerie, abbiamo una lightbox gallery, quindi una lightbox con le immagini che si aprono con effetto lightbox, possiamo scorrere avanti e indietro, chiudere lightbox e riaprirlo naturalmente, quindi qui abbiamo tutta la galleria con questo effetto lightbox, cioè sul click si apre, abbiamo una galleria con lo slider, quindi come possiamo vedere possiamo andare all'immagine successiva, direi, in modalità slider, quindi noi vediamo la prima e successivamente possiamo muoverci su quelle che sono le altre immagini, quindi con quest'altro effetto slider. La terza tipologia è la full width, quindi abbiamo tutta l'intera pagina occupata da quella appunto che è la nostra galleria, anche qua con questo effetto appunto slider di scorrimento. Torniamo all'home page, andiamo a vedere per esempio il portfolio, quindi quello che è per esempio una vera e propria landing page, quindi quelli che possono essere appunto i nostri lavori, abbiamo un bellissimo effetto over su quelle che sono le immagini, possiamo naturalmente mandare a varie destinazioni del nostro sito, abbiamo la versione mosaico, come potete vedere qui il masone, diciamo, quindi ogni immagine occupa il suo posto, abbiamo anche la versione slider, come abbiamo visto prima, e la versione full width, che sono quelle precedenti. Abbiamo quest'altra pagina, words, raves, che ci mette a disposizione una sezione con un quote di fatto, poi abbiamo due blocchi dove possiamo inserire anche qua informazioni, o quello di cui più abbiamo necessità, abbiamo un altro slider qua messo a disposizione, e arriviamo al footer. Andiamo a vedere ancora lo store per quanto riguarda WooCommerce, quindi abbiamo la possibilità di visualizzare quelli che sono i prodotti, qua abbiamo suddiviso in due colonne quelli che sono i prodotti, e anche in quelli che possono essere già le categorie, quindi possiamo andare magari a filtrare, ora questa è una demo, non è detto che funzioni, possiamo andare a filtrare in quella che è la categoria, e visualizziamo anche quella che è la pagina del singolo prodotto, abbiamo il titolo, il nome del prodotto centrale, il prezzo centrale, immagine sulla sinistra, descrizione e aggiunge al carrello sulla destra, abbiamo poi sotto i prodotti correlati. È un tema, direi, piuttosto particolare, abbiamo anche il contact form, con un'immagine sulla sinistra, form di contatto sulla destra, andiamo a vedere ancora il single post, quindi abbiamo il titolo, la data, e la categoria, l'immagine e il singolo post. Abbiamo visto quindi questo atelier, questo particolare tema, diciamo questo tema appunto child per Divi, che diciamo è per una nicchia per lo più specifica, però molto molto interessante, con dei bellissimi effetti, e da poter utilizzare sicuramente, se non per noi, anche per i nostri clienti. Per quanto riguarda l'atelier, per oggi è tutto. Bene, mi auguro che questo video ci sia piaciuto, se comunque hai dei dubbi o delle domande, lasciamelo scritto qua sotto nei commenti, in modo tale che posso esserti d'aiuto per quanto possibile. Se ancora invece stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo WordPress, WooCommerce, temi, plugin, e spulciando all'interno del mio canale non hai trovato quello che stavi cercando, lasciamelo anche questo scritto qua sotto, così che magari io possa trovare qualche altro nuovo spunto, o qualche altra nuova idea, per qualche altro video di informazione, proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso, comunque, se questo video ti è piaciuto, metti un piace, attiva la campanella qua sotto, e seguimi nei prossimi video. Ciao!